Voi avrete molto probabilmente inteso parlare di Apley, non già di W.T. Apley, il figlio, ma del celebre Apley del periplaneta Aplea, Apley l'entomologo. Se è così, voi conoscerete almeno la grande questione che si sollevò fra Apley e il professor Pokins. Nonostante la conseguenza di tale questione, vi riuscirà certamente nuova. Per coloro che non fossero al corrente, due parole di spiegazione sono forse necessarie. Il lettore pigro le percorrerà ad un rapido sguardo, seppure la sua indolenza glielo consiglierà. È strano dover constatare come sia poco conosciuto un fatto così importante come la disputa fra Apley e Pokins. Ancora una volta, queste controversie che fanno epoca e che hanno agitato il seno della società di geologia, sono, io credo, quasi completamente sconosciute al di fuori dei membri della società. Io ho udito degli uomini, anche dotati di una certa cultura generale, fare allusione alla grande scena di questo incontro come se si fosse trattato di un semplice battibecco fra fabbricanti. E pertanto, questo grande odio reciproco di geologi inglesi e scozzesi dura da un mezzo secolo e, come dicono i giornalisti, ha lasciato nella scienza tracce numerose e profonde. Orbene, Apley e Pokins hanno sollevato passioni assai profonde. Il profano non ha un'idea dell'ardore che può animare un dotto ed un cercatore, del furore di contraddizione che può risvegliarsi in lui e sotto una forma novella, Odium Theologicum. Vi sono delle persone, per esempio, che vedrebbero con somma gioia arrostire il professor Ray Lancaster a Smithfield per il modo con il quale ha trattato i molluschi nella sua enciclopedia. Questa fantastica estensione data al gruppo dei cefalopodi per cercare di conglobarvi gli stereopodi, ma mi accorgo che mi allontano dalla storia di Apley e Pokins. Essa cominciò molti e molti anni fa, in seguito ad una classificazione dei microlepidotteri, dei quali io non voglio dire niente, fatta da Pokins, nella quale egli citava come scomparsa una nuova specie scoperta da Apley. Questi, molto focoso, rispose con una pungente critica dell'intera classificazione di Pokins e Pokins, nella sua risposta, fece comprendere che il microscopio di Apley doveva essere tanto deficiente quanto la sua facoltà di osservazione e chiamò il suo avversario un confusionario irresponsabile. A quell'epoca Apley non era ancora professore. Apley, nella sua risposta, parlò di certi compilatori sventati e qualificò, come per inavvertenza, di miracolo d'ignoranza la classificazione di Pokins. Cominciò allora la guerra a coltello. Tuttavia, per chi legge sarebbe di scarso interesse il conoscere i particolari della lotta di questi due grandi uomini e il modo come la questione si allargò al punto che, separati da principio dalla questione dei microlepidotteri, vennero in seguito a battersi su tutte le questioni rimaste sospese in entomologia. Furonvi realmente delle circostanze memorabili. Si può dire senza tema di esagerare che qualche volta nulla parve più rassomigliante ad una discussione alla Camera dei Deputati delle riunioni della Società Reale di Entomologia. Ma io credo che Pokins fosse più vicino di Apley alla verità. Apley però era un bel parlatore, maneggiava l'ironia con un'abilità rara in uno scienziato, era dotato di una grande energia ed aveva sentito assai vivamente l'ingiuria fattagli di considerare come scomparsa una delle sue specie. Pokins invece era un uomo di poca presenza. Il suo discorso era noioso e di forma assai somigliante a quella di un barile. Coscienzioso all'eccesso nelle testimonianze, il sospetto di trafficare sulle nomine del museo, cosicché i giovani si affollavano intorno ad Apley per applaudirlo. Fu una lunga lotta aspra fin dal principio e disasperantesi alla fine, sino a raggiungere un accanimento senza pietà. Le diverse alternative, vantaggi da un lato, vantaggi dall'altro, oppure Apley seccato da qualche vittoria avuta da Pokins, o invece Pokins eclissato da Apley, tutto ciò appartiene più alla storia dell'entomologia che a questo racconto. Nel 1891, Pokins, la cui salute da qualche tempo era cagionevole, pubblicò un lavoro sul mesoblast della farfalla a testa di morto. Ciò che sia il mesoblast della farfalla a testa di morto non ci interessa per il momento, ma il merito di questo lavoro fu ben inferiore e fornì ad Apley un'occasione che questi desiderava da anni. Egli deve aver lavorato notte e giorno per trarne miglior partito. In un resoconto critico assai accurato, egli ridusse Pokins addirittura a pezzi. Si può immaginarlo, coi suoi capelli neri in disordine, figgente sull'avversario, i suoi occhi neri lancianti strani bagliori. Hawkins fece una risposta incerta e senza importanza che fu accolta con silenzi penosi ma pur malevoli. Nessun dubbio possibile sulla sua intenzione di colpire Apley né sulla sua impotenza nel riuscirvi. Solo poche delle persone che lo udirono, io non assistevo a quella seduta, indovinarono come quell'uomo era ammalato. Apley aveva atterrato il suo nemico e volle anche finirlo. Continuò con un attacco semplicemente brutale contro Pokins sotto forma di uno studio che attestava fino all'evidenza un cumulo affatto straordinario di lavoro mentale, benché redatto nello stile della polemica più violenta. Per quanto violenta essa fosse, era ancora attenuata, almeno così pretendeva di far credere in una sua annotazione. Hawkins doveva essere coperto di vergogna e di confusione. Apley non gli lasciava la minima scappatoia, le sue argomentazioni uccidevano e la sua voce non poteva essere più sprezzante. Fu un colpo schiacciante per un uomo giunto alle ultime tappe della sua carriera. Gli entomologi aspettavano impazienti la risposta di Hawkins. Questi ne volle tentare una, egli che non aveva mai indietreggiato, ma quando essa apparve cagionò una generale sorpresa. La risposta di Hawkins fu ammalare d'influenza, prendere in seguito una polmonite e poscia morire. Forse era la risposta più efficace che potesse dare in tali circostanze, perché essa rivolse l'opinione pubblica completamente contro Apley. Coloro stessi che avevano applaudito con gioia al combattimento di questi moderni gladiatori diventarono muti dinnanzi all'esito della lotta. Non era da dubitare che il dolore della sconfitta avesse contribuito alla morte di Hawkins. Anche nelle discussioni scientifiche, eravi o doveva esservi un limite, soggiungevano le persone serie. Un altro attacco schiacciante era in corso di stampa ed apparve alla vigilia dei funerali. Non credo che Apley abbia cercato di impedirne la pubblicazione, a dire il vero. Il pubblico non aveva dimenticato con quale ardore Apley aveva inseguito il suo rivale e scordò i difetti del rivale. La satira inasprita si spiegava malamente su una tomba chiusa da poco tempo. Il fatto provocò vari commenti nei giornali quotidiani ed è appunto perciò che io ho creduto che voi conosceste la storia della disputa di Apley. Ma, come ho accennato, gli scienziati vivono in un ambiente molto limitato ed io credo, infatti, che la metà degli oziosi che passano tutto l'anno da Piccadilli all'Accademia non sappiano dirvi dove hanno sede le società scientifiche. Molti, fra costoro stessi, pensano che il laboratorio di ricerche scientifiche sia una specie di comoda gabbia dove molte persone dormono tranquillamente. Certamente Apley non poteva, nelle sue riflessioni personali, scordare la morte di Hawkins. Da principio, questa morte era stata per Hawkins un mezzo vigliacco per sfuggire agli schiaccianti argomenti che Apley manovrava contro di lui, ma in seguito lasciava uno strano vuoto nello spirito di Apley. Per venti anni egli aveva lavorato con accanimento, talvolta fino a notte avanzata e sempre sette giorni per settimane, con microscopio, scalpello, penna e rete per farfalle e tutto ciò quasi unicamente per tener fronte a Hawkins. La fama che egli acquistò in Europa gli venne dal corso di questa grande polemica senza che vi pensasse. In quest'ultima disputa egli era esausto dall'eccessivo lavoro. Ciò che aveva ucciso Hawkins aveva nello stesso tempo anche spinito Apley ed il suo medico gli consigliò di abbandonare per qualche tempo qualsiasi lavoro e di riposarsi. Apley si ritirò dunque in un tranquillo villaggio del Kent dove pensava giorno e notte a Hawkins. Ora non abbiamo più nulla da dire su quest'ultimo. Infine Apley, comprese a quale fine tendevano le sue preoccupazioni, risolse di sfuggirle e cominciò a provare a leggere dei romanzi, ma non riuscì a stornare i suoi pensieri da Hawkins, che gli appariva pallido in volto pronunciando il suo ultimo discorso, quel discorso del quale ogni pensiero aveva dato ad Apley l'occasione di un successo. Ritornò alle finzioni del romanzo per accertarsi che esse non avevano alcuna influenza su di lui. Lesse le distrazioni delle notte d'Islanda, fino a che la sua ragione fu scossa oltre ogni limite dalla storia del diavolo dentro una bottiglia. Allora passò a leggere Kipling e trovò che non provava niente, senza considerare inoltre che esso era irriverente e volgare. Questi scienziati hanno le loro esigenze particolari. Poi provò a leggere per disgrazia L'intimo di casa di Anna Besant e il primo capitolo lo riavvicinò alla società di scienziati e una volta di più a Hawkins. Apley ricorse al gioco degli scacchi. Era un intrattenimento un po' più calmo della lettura. Apprese in breve tempo a fare le mosse dei pezzi, le principali combinazioni, le regole sulle posizioni da prendere e cominciò a vincere persino il pastore. Ma presto anche la rotonda forma del re avversario evocò ai suoi occhi un Hawkins che cercava inutilmente di essere in scacco matto. Apley risolse di rinunciare anche a questi. Forse, dopo tutto, l'applicarsi a qualche nuova scienza sarebbe stato per lui una maggiore distrazione. Non vi è miglior riposo per lo spirito che il cambiamento di occupazione. Apley decise quindi di tuffarsi nel mondo degli esseri infinitamente piccoli. Fece venire da Londra uno dei suoi piccoli microscopi e la monografia di Alibut. Egli pensava che se avesse potuto impegnare con Alibut una violenta polemica sarebbe forse riuscito a ricominciare una vita più bella e a dimenticare Hawkins. Se mise tosto all'opera e con l'ardore e l'energia che erano nel suo carattere applicò i suoi studi ai microscopici abitatori dei riuscelli. Fu al terzo giorno dei suoi studi che scoprì una giunta da fare alla fauna locale. Stava lavorando a tarda ora al microscopio. La sua camera era illuminata soltanto dalla luce di una piccola lampada munita di un paralume di forma speciale. Come tutti i provetti osservatori, egli teneva aperti entrambi gli occhi. È il solo modo di evitare una fatica eccessiva. Un occhio era poggiato sullo strumento e guardava sul chiaro e brillante campo circolare del microscopio, in mezzo al quale si agitava dolcemente un microbo di colore scuro. Con l'altro vedeva senza osservare. Egli non poteva scorgere altro fuori dalla parete di rame dello strumento, dalla parte del tappeto e della tavola che un pezzo di carta per annotazioni ed il piedistallo della lampada. Ad un tratto la sua attenzione passò da un occhio all'altro. Il tappeto della tavola, fatto di quella stoffa chiamata dai negozianti tappezzeria, era di colore assai vivo. Il disegno era di un giallo oro con una piccola quantità di rosso e di azzurro pallido su un fondo grigiastro ed in un punto sembrava che il disegno si agitasse come se i colori avessero un movimento di vibrazione. Apley alzò la testa e guardò con entrambi gli occhi. La sua bocca si spalancò dallo stupore. Era un'enorme falena, le cui ali si spiegavano come quelle di una farfalla. Ciò che era strano era come tale bestia si potesse trovare là perché le finestre erano chiuse. Strano che essa non avesse attratto l'attenzione svolazzando prima di posarsi sul tavolo. Strano anche che essa risaltasse in tal modo sul tappeto e ben più strano che essa fosse per lui. Apley, il grande entomologo, affatto sconosciuta. Tuttavia nessuna illusione. Essa era là e piano piano si aggrappava il piedistallo della lampada. Un genere nuovo, sapresti, ed in Inghilterra! esclamò Apley con gli occhi spalancati. Immediatamente pensò a Pokins. Nient'altro avrebbe potuto far stizzire di più Pokins e Pokins era morto. Ed era qualcosa in merito alla testa e al corpo di questo insetto che costringeva pensare particolarmente a Pokins, precisamente come prima il re del gioco degli scacchi. Al diavolo, Pokins, è necessario che io acchiappi questa farfalla! E cercando intorno qualche mezzo per poterla catturare, Apley si alzò dalla sedia cautamente. Ad un tratto l'insetto spiccò il volo, colpì contro il paralume, Apley udì il colpo e sparì nell'oscurità. In un batter d'occhio Apley tolse il paralume della lampada e tutta la stanza fu rischiarata. La farfalla era scomparsa, ma bentosto Apley, con i suoi occhi abituati, la scorse sulla tappezzeria vicino alla porta. Si avvicinò accostando con precauzione il paralume per catturarla, ma prima che egli fosse alla portata per colpirla, essa aveva nuovamente spiccato il volo e batteva le ali contro le pareti della camera. Volava secondo le caratteristiche di questa specie di insetti, uno slancio impetuoso per ritornare su se stessa e sparire in un punto per poi ricomparire in un altro. Vi fu un momento in cui Apley credette di averla acchiappata, ma il colpo gli fallì. La caccia continuava. Al terzo tentativo Apley urtò il microscopio, questo si rovesciò e dopo aver a sua volta urtato e capovolto la lampada, cadde sul pavimento con gran rumore. La lampada si capovolse e fortunatamente si spense. Apley rimase all'oscuro, sentiva trasalendo che la farfalla gli percorreva il volto. C'era da impazzire, non vi erano lumi. Se egli apriva la porta l'insetto sarebbe fuggito e nell'oscurità vide chiaramente Poukins ridere di lui. Poukins ebbe sempre un riso placido. Apley bestemmiava furiosamente e pestava i piedi sul pavimento. Ad un tratto udi picchiare leggermente all'uscio. Questo si aperse, o meglio si socchiuse lentamente e la figura spaventata della padrona di casa apparve dietro la rosea fiamma di una candela. Che chiasso, disse ella, è accaduto qualcosa? In questo momento la straordinaria farfalla venne a svolazzare vicino la porta socchiusa. Chiudete, chiudete quella porta! gridò Apley e si precipitò sulla padrona di casa. La porta fu chiusa con violenza e Apley si trovò nuovamente nell'oscurità. Nel silenzio intese la padrona di scendere frettolosamente le scale, chiudere una porta e trascinare per la stanza qualche mobile pesante per barricare l'uscio. Apley capì che il suo volto doveva essere apparso strano e la sua condotta allarmante. Al diavolo quella falena e poche insconlei! Tuttavia era un peccato perdere questo insetto. Andò a tastoni nell'anticamera e posò la mano sui fiammiferi, facendo cadere il suo cappello che rotolò per terra con rumore simile al rullo di un tamburo. Con la candela accesa ritornò nel salotto. La farfalla però non c'era più. Un momento dopo gli parve che essa svolazzasse sulla sua testa. Apley decise bruscamente di rinunziarvi e di andare a letto, ma era eccitato oltre ogni dire. La sua notte e il suo sogno fu turbato da incubi dove passavano la falena, Pokins e la padrona di casa. Due volte scese dal letto e tuffò la testa nell'acqua fredda. Una cosa però gli era assai chiara. La padrona non potrebbe comprendere la storia della straordinaria falena, soprattutto perché egli non era riuscito ad appropriarsene. Solamente un entomologo avrebbe potuto comprendere quanto egli aveva provato. Ella sarebbe stata spaventata del suo modo di agire. Ciò nonostante egli non trovava il mezzo di spiegarglielo. Risolse di non parlare degli avvenimenti della sera antecedente. Nel dopo pranzo vide la padrona nel giardino e decise di andarle a parlare per assicurarla sul proprio stato. Le parlò dei fagioli, delle patate, delle api, dei bruchi, del prezzo della frutta. Ella rispondeva con il suo tono usuale ma lo guardava con un po' di diffidenza. Camminava insieme a lui ma in modo di lasciar sempre fra di loro o un cespuglio di fiori o un filare di fagioli. La farfalla, portando seco come una specie di odore di Pokins, l'accompagnò in questa passeggiata, quantunque egli facesse del suo meglio per distogliersela dalla mente. Ad un tratto vide assai nettamente le ali distese sull'antico muro che circonda il parco, ma avvicinandosi riconobbe che trattavasi soltanto di due pezzetti di lichene grigio e giallo. Questa è l'ironia della illusione frequente. Invece di essere una farfalla somigliante ad una pietra, è una pietra che fa perfettamente l'effetto di una farfalla. Nel pomeriggio Apley andò dal pastore e discusse con lui su questioni di teologia. Stavano seduti sotto un pergolato coperto di rovi e fumavano discutendo. Guardate quella farfalla, esclamò Apley ad un tratto additando l'orlo della tavola di legno. «Dove? Non vedete voi una farfalla là sull'orlo della tavola?» «No, certo!» Apley era atterrito. Respirava appena. Il pastore lo guardava senza capire. Evidentemente lui non vedeva nulla. «Gli occhi della fede non sono migliori di quelli della scienza», aggiunse distrattamente Apley. «Non comprendo a che cosa vogliate alludere», replicò il pastore, che credette essere questa sentenza riferita all'argomento. Quella notte Apley scorse la farfalla aggrappantesi sul suo copripiedi. Sedette sull'orlo del letto e ragionò fra sé. «È un'allucinazione!» Conobbe che vaneggiava e si sforzò di riconquistare la ragione con la stessa energia muta che l'aveva sorretto prima nella sua lotta contro Hawkins. Le sue abitudini mentali sono così persistenti che ancora gli sembrava di essere alle prese con lui. Molto profondo in psicologia, egli sapeva che le allucinazioni sono le conseguenze dell'eccessiva fatica dell'intelletto. Tuttavia, non solo egli aveva vista la falena, ma l'aveva udita quando aveva urtato contro l'orlo del suo paralume e più tardi quando aveva urtato contro il muro della sala e l'aveva sentita quando essa lo aveva colpito nell'oscurità. Guardò la farfalla. Non si trattava completamente di un sogno. L'animale era proprio là, reale, visibile alla luce della candela. Egli vide il suo corpo vellutato, le sue corte antenne leggere, le zampe articolate, come pure una parte del dorso dove il leggero pelo era stato tolto dall'ala. Si adirò contro se stesso e si rimproverò di aver paura di un piccolo insetto. Quella notte la padrona fece venire nella sua camera la serva perché non era troppo rassicurata di trovarsi da sola. Inoltre, si era rinchiusa a chiave ed aveva messo l'armadio davanti alla porta. Dopo essersi coricate entrambe, tesero le orecchie e non parlarono che sommessamente. Ma nessun rumore ebbe a disturbarle. Verso le undici si arrischiarono a spegnere la candela, indi si addormentarono. Furono svegliate di soprassalto, si alzarono sul letto e stettero ascoltando nell'oscurità. Udirono dei piedi calzati di pantofole andare e venire nella camera di Apley. Una sedia fu rovesciata, un forte colpo fu picchiato sul muro, poi un oggetto di porcellana che stava sul caminetto si spezzò contro il paraceneri. Ad un tratto la porta della camera si aprì ed esse intesero Apley uscire sul pianerottolo. Si strinsero l'una accanto all'altra tremanti. Pareva che Apley ballasse sulle scale. Discese a tre o a quattro gradini per volta, poscia li risalì precipitandosi nell'anticamera. Udirono spingere con violenza la porta, mandando per aria il portaombrelli e fracassando il ventilatore. Quindi fu tirato il chiavistello e la catena stridette. Stava aprendo la porta. Le due donne corsero alla finestra. Era notte grigia, si vedeva la luna come attraverso un velo quasi ininterrotto di nubi acquose. La siepe e gli alberi di rimpetto alla casa parevano neri, per il contrasto col chiarore della strada. Videro Apley in camice e pantaloni bianchi andare e venire per la strada come uno spettro, agitando le braccia. Talvolta si fermava, poi si slanciava prontamente su qualcosa di invisibile, dall'altra volta procedeva a passi cauti. Infine svoltò in fondo alla strada in direzione della luna. Poi, mentre le donne discutevano quale delle due sarebbe andata a chiudere la porta, egli ricomparve. Camminava velocemente, rientrò in casa, chiuse la porta con precauzione e se ne andò tranquillamente nella sua camera da letto. Allora tutto ridivenne silenzio. «Signora Colville», disse Apley l'indomani chiamandola sulle scale, «spero non vi sarete mica spaventata stanotte». «Oh, signore!» «Il fatto è che io sono sonnambulo e le due notti scorse non ho preso il mio solito calmante. Veramente non c'era nulla che potesse allarmarvi. Sono davvero mortificato di essere stato così sciocco. Vado subito a Shoreham dall'altra parte della duna a comprarmi qualche medicina che mi faccia dormire profondamente. L'avrei già dovuto fare ieri». Partì, ma a metà strada, sulla duna, vicino alla cava di pietra, gli venne in mente la farfalla. Proseguì sulla sua strada sforzandosi di pensare soltanto alle difficoltà del gioco degli scacchi, ma non vi riuscì affatto. La farfalla svolazzava contro il suo viso e dovette difendersi ripetutamente con il cappello. Allora la collera, l'antica collera che aveva sfogata tante volte contro Pokins, si impossessò nuovamente di lui. Continuò la sua strada assaltando per colpire l'insetto che svolazzava e finalmente cadde disteso per terra. Vi fu una lacuna nelle sensazioni di Apley dopo che si trovò coricato su un mucchio di pietre davanti la porta della cava con una gamba ritorta sotto il suo corpo. La prodigiosa farfalla stava sempre là a svolazzargli intorno alla testa. Allungò la mano e voltandosi scorse due uomini che gli si avvicinavano. Uno di essi era il medico del villaggio. È una fortuna, pensò Apley, ma gli venne in mente con straordinaria prontezza che nessun altro dovesse riuscire a vedere la strana farfalla ed era dunque meglio non parlarne. Nella notte però, dopo che gli fu rimessa a posto la gamba slogata, ebbe la febbre e si dimenticò ciò che si era imposto. Steso sul letto girò intorno lo sguardo nella sua camera per cercare la farfalla. Essa era ancora là. Provò a non pensarvi, ma in vano. Bentosto scorse l'insetto appoggiato sulla sua mano destra vicino alla lampada da notte sul tappeto verde. Le ali sbattevano con un brusco movimento. Lui le diede un pugno. L'infermiere si svegliò cacciando un grido. Egli aveva di nuovo mancato il suo scopo. Maledetta falena, disse egli, sempre illusione, non è niente. Vedeva chiaramente l'insetto svolazzare verso la cornice e volare attraverso la camera, ma vedeva pure che il suo infermiere, non scorgendo nulla, l'osservava stranamente. Bisognava sapersi contenere. Sentì che era perduto se non riusciva a meglio comandarsi, ma verso il finir della notte la febbre lo riprese e il solo timore di rivedere la farfalla fece sì che la rivide. Verso le cinque, alla parere del giorno, volle scendere dal letto per acchiapparla, malgrado gli dolesse la gamba. L'infermiere dovette lottare con lui per trattenerlo. Per maggior precauzione lo legò al suo materasso, ma allora la farfalla prese maggior animo e ad un tratto egli la sentì nei capelli. Si diede dei forti pugni in testa e gli dovette legare anche le mani. Allora la farfalla venne a posarsi sul suo naso. Apley pianse, bestemmiò, gridò, supplicò che la chiappassero, ma tutto fu inutile. Il medico era un praticante alquanto stupido, senza grande competenza di tutto il resto e ha fatto estraneo alle malattie mentali. Dichiarò semplicemente che non vi era alcuna farfalla. Se avesse avuto un po' più di spirito, forse avrebbe potuto salvare Apley, assecondando le sue allucinazioni e coprendogli il volto con una garza sottile, appunto come lui chiedeva. Ma come ho detto, quell'uomo era un imbecille e Apley, fino a chi fu guarito, rimase legato al letto con la sua farfalla immaginaria davanti agli occhi. Durante le ore di veglia l'insetto non lo lasciava un solo istante e nel sonno prendeva le proporzioni di un mostro. Quando il disgraziato era sveglio, invocava con pazienza il sonno e quando dormiva si alzava di soprassalto gridando. In breve, Apley vive i suoi ultimi giorni in una camera fatata, tribolato da una farfalla che nessuno pote mai vedere. Il medico dell'ospedale dice che ciò è un'allucinazione, ma Apley, quando è di buon umore e può parlare, assicura che è l'ombra di Hawkins. Per conseguenza, un unico esemplare, ben degno della pena, che egli si prende per catturarlo. Grazie per l'ascolto. Se vuoi supportare il canale e far crescere la qualità degli audiolibri, puoi fare una piccola donazione su PayPal o Ko-Fi tramite il link che trovi in descrizione. Inoltre, se vuoi ascoltare questi racconti più comodamente quando sei in giro, puoi trovarli anche su Spreaker, Spotify ed Apple Podcast. Grazie ancora e ci sentiamo al prossimo racconto.